VIVI 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 ti prego eee ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono Leonardo del TheSameGames e sono su un nuovo gioco horror come avevo scritto su Facebook per chi ha visto diciamo e come potete sentire dalla mia voce non sto proprio tanto bene e questo è uno dei motivi per cui diciamo è un po' che non facciamo video io e Luca siamo stati un po' malati, in particolare Luca ma ora comunque stiamo bene, cercheremo di fare molti video perciò oggi siamo su Hotel Remorse è un horror che ho trovato girando un po', ho cercato un po' di horror e spero sia carino, spero di non prendermi dei colpi troppo spaventosi allora, tra le 2 e le 3 del mattino beh in poche parole si sentono degli spari e le persone che erano dentro cosa è successo già? le persone che erano dentro l'hotel hanno evacuato tutto oddio oddio, c'è un foglio premiamo E, credo abbia perso Helen, non so chi sia Helen qui si apre queste qui si aprono a volte non si possono aprire tiro l'angolo, tiro l'angolo no vabbè, insomma non si possono aprire quindi è inutile che cosa, che provo ad aprire lì c'è la luce che va e viene e lei è... è sparita no, cos'è successo? no oddio poche parole, Helen è sparita e c'è anche un bambino non ho capito bene come c'entra il bambino in tutto questo oddio no eh mo c'è un foglio che qui non posso leggere cos'è? ma che cazzo? chiudi, 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 chiudi chiudi non si può chiudere volevo leggere la nota io aspetta ah beh, interessante no 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 cos'è? cos'è il fumo? oddio 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 no 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 ti prego cos'è successo? io devo andare lì? sicuri sicuri che non c'è altra via d'uscita ne siete certi? ne siete certi? io non ci voglio andare perché si sente un bambino? perché si sente un bambino? c'è un foglio ovviamente sto cercando questa Helen ma cazzo no ragazzi io ho paura io c'ho paura io c'ho paura ho tanta paura ho paura che ci sia un jumpscare che perdo mezzo cuore perdo cinque anni di vita dopo chi me li restituisce? oddio oddio no 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 cos'è? ragazzi? 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 cosa ho a fare? ragazzi aiuto oddio mi stanno venendo da sulle pareti come faccio? come faccio? come faccio? aiuto cosa? nooo non ci posso credere ho capito dovevo prendere la chiave c'era una chiave lì ah porca rifacciamo ok ragazzi sono tornato praticamente nel punto dove prima ero morto perché mi sono venuti addosso i muri ora ho capito cosa fare devo prendere la chiave che è qui adesso cominceranno a venirmi addosso i muri però qui c'è una chiave prendo la chiave apro la porta entro si chiude no no una cola si muove da sola no no io sto qui non mi muovo io sto qui non mi smuove nessuno no ma c'è c'è un bambino dentro che cazzo c'è dentro è spawnato un foglio è spawnato i violini è spawnato un foglio foglio con il sangue finalmente ora oddio ho ucciso il bambino ho ucciso il bambino oh mio dio no io non ci vado io non ci vado io non ci vado mi sto cagando addosso c'è un altro foglio oddio un corridoio bruttissimo i i'm coming no 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 dove devo andare ragazzi prebs the shift to run prebs the shift to run corro 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 vai 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 cos'è 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 quel coso cos'è quel coso un ascensore Aiuto Mi sono salvato Mi sono salvato E mo? Quindi Oh Oh Cosa No cos'è Cosa sta succedendo No Oddio aiuto 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 Stai impazien... No vabbè Ti prego non ti aprire No Cos'è No 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 Ti prego Ti prego Ti prego No ragazzi cosa devo fare? No io lì non ci vado C'è fisso proprio Aiuto In memoria di T-Bag Orin Oddio 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 Grazie a tutti.